padova la città nota nel mondo per i tre senza il prato senza erba il santo senza nome il caffè senza porta ma da qualche anno padova è diventata la città del quarto senza la corsa senza omani sono ciano contin assessore allo sport del comune di padova sono io l'assessore allo sport del comune di padova quello vero sono io diego bonavino io sono orgoglioso di presentare la decima edizione della pink run la corsa rosa che il 12 maggio invaderà le vie della nostra città vi aspettiamo numerose e numerosi tutti quanti assieme a me cosa avevi detto stessa roba no no dai via tutto grazie a tutti grazie a tutti